Siamo arrivati a New York, volevo fare un brindisi e ringraziare moltissimo tutte le persone che ci hanno contattato sul sito www.settemosse, hanno scritto i loro pareri, tutti straordinari e io vorrei promettere a tutti che nel corso del mese prossimo mi metterò lì e risponderò a tutti. Non abbiamo potuto farlo in viaggio perché non si poteva proprio tecnicamente fare, ma meritano delle risposte. Abbiamo ricevuto delle indicazioni molto interessanti, alcune delle quali, anzi molte, agiranno per migliorare ulteriormente il corso d'opera del Settemosse. Il sito non muore qua, si va avanti con www.settemosse.it Il prossimo grande appuntamento è il 2 giugno per la regata sul Lazio nella consegna al console generale del documento del Settemosse e poi ci andrà avanti. Cercheremo di incidere per quel poco che potremo nella politica del nostro paese da laici, da gente che non fa la politica. Un saluto a tutti.